L'attuale chiesa intitolata San Giacomo Apostolo è il punto di riferimento dal 1952 di un quartiere che nell'immediato secondo dopoguerra si era popolato di famiglie attratte dal lavoro nelle fabbriche della zona. Oggi la popolazione si è molto ridotta, di giovani ce ne sono pochi, le fabbriche non ci sono più, ma non per questo si è spento nei residenti il desiderio di avere una chiesa più spaziosa ai locali più idonei per l'oratorio e per le attività dei parrocchiani. Siamo nel cantiere del nuovo complesso parrocchiale di San Giacomo Apostolo all'Arginone. Da noi detto comunemente siamo dall'Arginone, insomma, però è un cantiere che ha preso piede dopo tante tempistiche per la realizzazione, ma ha iniziato dopo la posa della prima pietra l'11 febbraio 2018 e ora siamo già al termine della copertura della chiesa. Quindi siamo molto soddisfatti di come si sta lavorando, di come la cittadinanza sta apprezzando questi lavori, di questo edificio particolare che sta nascendo in questo quartiere. Un edificio particolare, la chiesa nuova, chiesa di San Giacomo, che ha una storia particolare anche dal punto di vista di come è nata l'idea, la progettazione, questa realizzazione di cui abbiamo visto alcune parti molto suggestive. Sì, la chiesa di San Giacomo parte con un desiderio da parte della comunità di sviluppare quelle che erano delle opere parrocchiali insufficienti, non idonee. L'arcivescovo Rabitti, dopo tante traversie, si è arrivati a chiedere alla CEI un aiuto e siamo fatti parte di un progetto che veniva chiamato Progetto Pilota dall'ufficio Nuova Edilizia di culto della CEI ed eravamo una delle diocesi selezionate per far sì che venisse in un qualche modo rappresentata la nuova chiesa nel 2011 per il Nord Italia e Ferrara ha avuto questo vanto. Progettisti erano sette, un invito di un concorso su sette progettisti anonimi, noi siamo arrivati alla seconda giuria con l'arcivescovo Rabitti, io e Monsignor Grandini a valutare quale progetto potesse andare meglio per la nostra città. Ha vinto il progetto dell'architetto Benedetta Tagliabue, l'artista Enzo Cucchi e il liturgista che si è succeduto, Don Tagliaferri. Grazie a tutti.